scoprire di avere un fratello dopo tanti anni è successo a bono box che solo adesso fa questa rivelazione il frankman degli u2 ha svelato tutto in un'intervista alla bbc ho scoperto di avere un fratello segreto il padre del cantante morto di cancro oltre 20 anni fa ha avuto un figlio da un'altra donna e glielo ha confessato un anno prima della sua scomparsa la mamma di bono box che all'epoca era già morta non lo ha mai saputo mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna e hanno avuto un figlio ma tutto questo è stato mantenuto segreto ha spiegato all'inizio è stato un duro colpo per il leader della rock band irlandese ma parlando col padre è riuscito ad accettare le cose gli ho chiesto se aveva amato mia madre mi ha risposto di sì e quando ho insistito chiedendogli di spiegarmi perché allora fosse successo questo mi ha risposto succede non si stava scusando stava solo affermando che questi sono i fatti e io sono in pace con tutto questo bono box ha un altro fratello norman più grande di lui la mamma è morta nel 74 a causa di un aneurisma quando aveva solo 14 anni e in quel periodo come ha dichiarato più volte i rapporti tra lui e il padre erano complicati ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie